cari amici di extreme hardware questo è un brevissimo video di presentazione della recensione del nuovissimo dissipatore cryorig r1 ui ultimate ovviamente eravamo molto ansiosi di testare a livello termico questo dissipatore perché cryorig ricordiamo che è una nuovissima realtà nel settore della dissipazione termica per dissipatori ad aria questo modello si presenta appunto come un design a doppia torre e la predisposizione per due ventole da 140 mm ma è possibile installarne anche una terza come vedremo innanzitutto questa questa recensione che faremo sarà principalmente scritta e siamo orgogliosi appunto di farvi presente che saranno stati potrete visionare una quantitativa impressionante di test termici e questo perché ad esempio come vedete qui sono abbiamo installato due ventole noctua nf f12 in push e in pull posteriormente mentre nella parte centrale una ventola proprietaria di cryorig quindi rimandiamo alla recensione scritta per quanto riguarda tutti i test però ci teniamo appunto a fare questo video anche perché così facendo sarà possibile avere appunto un feeling diretto con questa unità innanzitutto il dissipatore appunto è una classica struttura una concezione a doppia torre qui vediamo un attimo se riesco a darvi un'ottima luminosità una struttura appunto classica a doppia torre e quindi questo in un certo senso comporta tutta una serie di problematiche tra cui ad esempio il il fatto di avere una compatibilità con ram ad elevato profilo abbastanza ristretta ad esempio qui possiamo notare che abbiamo installato dei moduli corsair dominator gt da 2133 megahertz cl9 l'unico problema è che abbiamo dovuto rimuovere il dissipatore passivo superiore per permettere addirittura l'installazione di una 120 mm e ovviamente l'installazione delle ventole avviene tramite un classico sistema bloccaggio con fermi metallici che però si installano su dei fermi di ritenzione di plastica rigida e questo è veramente un ottimo sistema anche perché è questo anche perché questo sistema come dice un certo razzi questo sistema permette un'installazione del dissipatore direttamente dall'alto senza rimuovere le ventole ovviamente a patto che voi possediate questo ovvero un cacciavite lungo 30 cm che consigliamo sempre perché è davvero molto pratico per quanto riguarda l'installazione dei dissipatori comunque sia come vedete qui dalle immagini ci saranno dei problemi per quanto riguarda la compatibilità ad esempio notiamo che viene ostruito il primo e secondo slot frontalmente su una piattaforma 2011 posteriormente invece la situazione è diciamo più problematica addirittura perché i primi due banchi di ram e conseguentemente anche il terzo rientrano appunto nella sono sono coperti appunto dal radiatore che è leggermente non presenta appunto una conforme una configurazione simmetrica delle delle due torri ma è leggermente spostato verso destra e questo o posteriormente questo perché permette una migliore compatibilità con socket ad esempio z77 o z87 in questo caso dato che la piattaforma 2011 ha banchi di ram a sinistra e a destra ovviamente è un problema comunque sia per quanto riguarda le performance termiche questo dissipatore riesce a sorprendere a elevati rpm a bassi rpm purtroppo la tipologia delle delle alette della struttura dissipante come molti dissipatori di questa tipologia perdonate la ripetizione risente della necessità di avere elevati cfm in entrata e in uscita alcuni dettagli tecnici del dissipatore allora innanzitutto la spaziatura delle alette è differente in base alle due microstrutture presenti sul radiatore in quanto ad esempio notate che qui c'è una colorazione grigio chiara e grigio scura o nera bene perché questi due blocchi di alette sono saldati sulle heat pipes presentano una spaziatura ed uno spessore no solo ed esclusivamente una spaziatura diversa perché il blocco grigio e presenta una spaziatura di 2.21 mm mentre quello nero di 1.86 lo spessore invece dell'alette è di 0.31 mm uno spessore e non eccessivo anzi abbastanza contenuto ad esempio altri modelli tra cui racing tech nemesis che recensiremo fra poco sono spessi 0.37 mm oppure lo shai tashura 0.37 mm il numero delle alette è appunto varia in relazione alle due piccole torri perché in questo caso è 45 per quella grigia e 55 per quella nera questo ovviamente significa che è presente una peculiarità perché non c'è altro modello in commercio che io ricordi che presenta appunto una diversità simile questo infatti è uno dei punti di forza di questo dissipatore o perlomeno quello che viene pubblicizzato dal produttore anche perché presenta 7 heat pipes da 6 mm cosa non da poco perché sono davvero un quantitativo molto elevato l'altezza dalla base ecco l'altezza dalla base è pari a 4.2 centimetri e 4.2 centimetri con una ventola da 120 mm oppure 2.6 centimetri e qualora appunto ci fosse la ventola da 140 mm e questo potrebbe ecco appunto rappresentare un problema perché 2.6 centimetri significa che non sarà possibile installare i moduli e quindi sarà necessario rialzare la ventola da 120 o 140 mm che ovviamente causerà un rialzo dell'altezza totale del dissipatore in questo caso sarebbe consigliabile una configurazione simile per avere la massima compatibilità l'altezza del dissipatore e arriva a 163 mm senza ventola e 171 con la ventola installata anche se in realtà però appunto questo è l'altezza complessiva e sarà relativa alla tipologia di ventola utilizzata comunque nella recensione ci saranno tutte le informazioni riguardo la larghezza invece è di 139 mm e la profondità è di 116 mm senza le due ventole quindi con la sola ventola centrale 116 sarà invece di 141 con la prima ventola o 164 mm con tutte le ventole quindi in sostanza è un dissipatore che presenta un'altezza non eccessiva leggermente ovviamente o leggermente superiore allo standard però d'altronde era anche necessario è un dissipatore molto valido però appunto c'è il problema della compatibilità con ram ad elevato profilo e sì fondamentalmente questo questo è un discorso che va attenuto va appunto considerato al momento dell'acquisto per quanto riguarda i test termici e rilevazioni acustiche vi invitiamo a visionare il video e fateci sapere se avete già acquistato questo dissipatore cosa ne pensate quali sono le vostre aspettative per un dissipatore di questa categoria e niente insomma questo è quanto cosa abbiamo qui qualcosa che forse testeremo con dissipatori custom a breve buona giornata grazie a tutti